Musica Ciao a tutti ragazzi, io sono tassi e benvenuti in questo nuovo episodio di Pixelmon Allora, scusate, abbiamo fatto un paio di cosette, abbiamo fatto un paio di roba buona anche Un sacco, un sacco di roba buona, parliamone Allora, mi avete detto nei commenti, nel video di ieri, che c'è una cosa interessante vicino a casa di Cip Io adesso esco da sto posto in qualche modo Ok, si sa come uscire più o meno, forse Un po' di qua, ok Si sentite tipo rumori strani perché è normale, stanno tipo C'è la finestra aperta per quello, fa caldo ragazzi, fa caldo, fa caldo, troppo Ok, comunque, la caverna non so di chi sia ancora perché non l'avete ancora detto Perché non ho cresciuto il video, mi sembra giusta come cosa E oggi tutto per primarie in tema usciranno 4 video Nel frattempo, oltre a quelle cose, devo direvi che dovevo fare un faculty time Visto che l'ho già scritto, ho già scritto su facebook Se volete fare domande fatele, prenderò le migliori e risponderò a quest'ultima Quindi fatemi sapere se avete qualche domanda Trovate la pagina facebook sotto in descrizione se volete E boh, se lasciate un bel like saprete poi quando pubblicherò altri post Perché in automatico facebook lo fa Come su youtube più o meno Sì, più o meno di lì Ok, casa di chip e di qua Quindi andiamo a aprire con lo charizard Ehm, dicevo comunque Nel commento vi avete detto anche Appena si evolve gollet Lascia charizard e prendi per esempio Monferno Ed penso che sia la cosa che farò Nel frattempo Probabilmente eliminerò primplap E prenderò qualcosa di un po' più figo Che sia anche acqua Per ora non mi viene altro in mente Probabilmente se riesco un bel lapras Però sarà un po' più difficile da fare come cosa Però vabbè forse ce la facciamo E lo vediamo, lo vediamo Comunque iniziamo ad andare per adesso a casa di chip E mi ho detto la caverna sotto casa di chip Non so bene quale sia questa caverna Ehm, forse quella anche dove siamo andati a prendere tipo Come si chiama? Questa è quella roba tipo che ho preso Ehm, il barmo, si Il barmo è a casa di Luke Forse quella caverna Passa anche sotto casa di Ehm, casa di chip Probabilmente E voi mi dite che è quella Ma non so, ora vediamo Non è un grandissimo problema Quindi proviamo un attimo a vedere Ehm, eccola qua, casa di chip Anzi no, questa è casa di Joe Casa di chip un po' più al lato Eccola qua, questa è, intendete Ok Presumo che sia questa Visto che ci sono delle torce Ehm, prenderemo un po' di legna Sicuramente perché almeno sono sicuro Ehm Di averne un po' Perché in effetti non ce l'ho mai Tipo Ehm, rimango sempre senza Ed è una brutta brutta cosa Comunque ragazzi vi ringrazio Perché siamo arrivati a 31.500 Uh, persone Spero Per la fine dell'estate Ci raggiungere un buon record Che è quello che mi sono prefissato Ehm, vi ringrazio comunque Per tutte le iscrizioni che fate Perché davvero siete dei grandi Mi fa piacere Anche vi piacciono i video Che Ehm, ogni giorno lasciate tantissimi like Tantissime visual Ehm Tantissimi commenti Soprattutto quelli Tantissimi commenti Quindi fai davvero molto piacere Grazie ragazzi Piove Ok Che bella cosa che piove Ulisse Cosa vuoi da me? Cosa vuole? Eh Diciamo che Sì Toglila Eh Eh Vabbè Dobbiamo gli appoggiava Vale Vabbè Ah Ok sì perché non so che stanno facendo Penso forse che stanno avendo tipo la casa se esce bene Senza pioggia Oppure Vale Vale già paura che lagga di suo E che piove anche di qua Sì probabilmente Forse per quello Ok comunque avete detto chi Piove uno da questa parte? Non so dov'è precisamente Grazie Gesù Come grazie Gesù Non sono Gesù Tan 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 Gesù Ok Random Perfetto Ok Un po' di roba E ok mettiamole qua le torce Perfetto Iniziamo a scendere giù ancora Eh Boh ragazzi mi avete detto che siamo qui sotto Ora non so se questa è la caverna Speriamo che sia questa Perché in caso contrario ragazzi Mi avete mentito Mi avete mentito se siete delle cattive persone Ci ha lasciato tutto Ha preso tanto Eh ora Poi la sera che sia a casa di Casa di Sia Giù Che aveva preso tutto E aveva lasciato tanto del co Poi perché lasciano il co Non li capisco Vi giuro ragazzi C'è ancora vale un sacco Ferro Ferro ovunque Ma coal proprio Non si capisce Ah più zero Ah questa No ok No niente Ho sbagliato Eh Niente ragazzi Ma dov'è che l'avete visto voi Perché io non lo vedo qua Probabilmente No forse non è questa la caverna Questa cos'è Bauxite Bauxite Uh uh Bauxite Ok ragazzi L'avete vista bene Perfetto E qua c'è l'iron Eh Ne abbiamo altri Dove sta Altri tre Ok Sono ancora pochi Però più o meno Sono quelli che ci servivano Un momento Abbiamo quattordici Tre Sono sei E i venti Ne abbiamo in totale Ok vabbè Venti Me ne servono ancora Altri otto Se ne facciamo di più È molto meglio Bene infatti però Meglio farne sicuramente di più Ok tanto Eh non venderò più La bauxite Da questo momento in poi Eh La bauxite la terrò per sale Perché i macchinari Si fanno tutti con la bauxite Si stronti Ma il ferro è Ferro con la bella cosa No bauxite Alluminio Macchinari con l'alluminio Vabbè si si fanno Macchinari con l'alluminio Alcuni però Dettagli Altro ferro Ormai il ferro proprio Boh Lo troviamo Come se non ci fosse un domani Ferro a go go proprio Basta Non lo voglio più Non lo voglio più Comunque no Arriviamo a livello 30 ragazzi Perché voglio per posto Inchantare quel Bellissimo piccolo Prima alla fine della serie Eh cioè Prima alla fine della serie Prima alla fine della puntata Eh Sorry per questo episodio Un po' così mosci Perché scaviamo Però Come sapete Non possiamo tagliare queste parti E Vogliamo Voglio comunque Mostrarvi Che comunque ci vuole Un bel po' Per arrivare a 6.000 Che sono Tipo tantissimi Però Fatto questo Avremo finalmente La nostra bellissima palestra E poi i soldi Non saranno un grandissimo problema Perché tanto le casette Si potranno farne Qualcun'altra in più Però Non sono proprio Non saremo costretti Per forza a farle Quindi non preoccupatevi Per questa cosa Comunque Facciamo Prendiamo un po' di cola Anche Non usiamo il piccone Con fortuna Perché si è quasi rotto E tipo Unica cosa che Vi posso dire Che vedo alcuni commenti Che non mi piacciono Sono quelli che tipo Commentano Dicendo Tipo Insultando Diciamo che Ci sono persone Che scrivono Delle cose Per esempio Guardano metà video E commentano Capita anche a me Per esempio Di vedere metà video E di commentare Non capitano Scusate perché Generalmente non commento Quasi nessun video Cioè è difficile Che commenti dei video Perché Più o meno Guardo il video E se qualcosa Non lo commento Comunque E tipo Mi è capitato di vedere Gente che insultava Quella persona Perché diceva Guarda che l'ha detto dopo Ok Potete dirgli la stessa cosa Bauxite Bauxite Potete dirgli la stessa cosa Anche Diciamo In modo più pacifico Senza insultare Comunque Ok Si sbaglia nella vita È giusto così Però non bisogna Forza Aggredire la gente Che sbaglia Tranquilli Non preoccupatevi Ditegli Guarda L'ha detto dopo Nel video Lui capirà E da quel giorno Probabilmente che ne so Guarderà tutto il video Prima di Di commentare Perché capita per esempio Che non si apre del tempo Si guarda sotto una parte del video Poi si lascia il commento Veloce veloce Giusto per Giusto per dare comunque Un consiglio A me Quindi Non solo a me Ragazzi Fatelo un po' con tutti Siete un po' più buoni Non insultate la gente Così a caso Non nemmeno a caso Sì a caso E a caso A quelle volte Davvero Ok Allora comunque Mancano ancora 4 livelli A livello Ancora 4 livelli C'è un po' di più di 4 livelli Ancora un po' di livelli 4 livelli E qualcosa E Ok Altra bauxite C'avete ragione ragazzi Qui sotto c'è davvero Un sacco di bauxite E non so chi è il pazzo Che non l'ha presa Presumo sia cibo Perché questa è Tutto casa di cibo E noi siamo senza cibo Ragazzi Brutta cosa Siamo nella cacca più totale Perché senza cibo Siamo senza cibo Wow Non mi dire Ulisse No Senza cibo Stiamo morendo Perché Non abbiamo del cibo Carne marcia In effetti potremmo anche Considerarla Una buona carne Ok Mangiamo la carne marcia Così è molto a caso Cercando un attimo Di capire Se è buona Oppure no Poi non c'è un modo Di purificare Questa carne marcia Ragazzi Nel senso Vabbè Ok la carne marcia Ok anche in realtà Fa male È normale Ok Fin qui Io sto a posto Ma non c'è Io so che Probabilmente si può fare Si può purificare In qualche modo La carne marcia Ci sono delle volte Che lo fanno fare Per esempio Un'utilità Della carne marcia Oltre tipo a nulla Cioè Non ha utilità La carne marcia Tanne Che mangiarla Nei casi C'è un dungeon Ragazzi c'è un dungeon Bello Livelli a go go Ok ok C'è una spada Adesso uccidiamo quei tizi Anche se siamo nella merda Perché non abbiamo cibo Vabbè Lì sono dettagli Qualche cosa ci inventeremo Tanto abbiamo un po' di carne marcia Magari di zombie Siamo fortunati E non abbiamo Anche problemi di cibo Sento Zombie Sia che di zombie Perfetto Quanto godo Che di zombie Ok Solo due livelli Tre livelli mi mancano Quindi un po' di esperienza Uccidendo i mob E siamo a posto Useremo l'ascia Perché tanto è facile Usare quella E siamo a posto Infatti è bunker Recuperiamo questo call Tanto è sempre call E' buono Ok Ah no è di spider questo Si le chest Ce l'hanno distrutte tutte Stronzi Ok Io leverei questi Perfetto E farei un Qualcosaglia Ok un po' di esperienza Farei tipo una cosa del genere Stavo dicendo E' per il problema Che loro passano comunque Ah una cosa che Almeno posso chiudere Velocemente Qua c'è un'altra Ah qua c'è un'altra Torce Ecco perché Ok So che non vedete una mazza Ragazzi però Dobbiamo uccidere qualcosa Dobbiamo uccidere un paio Di questi Mob Però dove si possa prendere Se avessi il touch Non so ragazzi Ma i mob spawner Ci prendono questi touch Non ci ho mai provato Aia Un po' di esperienza Sì ma ma ne dà una merda Mi dà Ce ne volevo scavare A sto punto Odio la persona Che è proprio Su sto dungeon Perché è buono Buono Vabbè Lasciano stare i dungeon Andiamo avanti Andiamo a prenderci Gli ultimi livelli Vediamo un po' Se riusciamo a trovare Qualcosa di buono E in caso contrario Usciremo da questo posto Che è tipo Malsano Ah c'è un pezzo di coal Ok Perfetto Vediamo un po' 11 Eh 29 Ho avventato di nuovo Andiamo di qua Torniamo da questa parte Vediamo un po' Vediamo Vediamo Ancora tre livelli Poi dovremmo essere Comunque a posto Poi anche cuocendo la roba Potremo recuperare Un sacco Un sacco di esperienza Su quello Non ci sono dubbi Anche ucciderendo I mob Per questo Vabbè Per il tempo Andiamo a vedere Se riusciamo a trovare Altro roba Mi servirà un paio Di roba ancora Ad esempio Quante ne abbiamo ancora Di questi 24 più 3 27 Un altro almeno Wow Uno Che culo Abbiamo sempre culetto noi Eh ok Qua Qualcuno ha già preso La limestone Ok Oh Altro ferro Che cavolo Solo ferro sta Golbat ciao Golbat vuoi morire Che dici Vuoi fare una brutta fine Iron everywhere Dovrei avere uno stack Di iron Eh Non lo so Uno stack che passa Sì sicuramente Ok A posto Allora Vi ci dà un attimo Soccorso Vi ci dà un nuovo Con Charizard Facciamoli Slash Così a caso Ok Anzi Oh Ah mi ha fatto Sanguisuga Ok Oh Soranzo Muori Ok Oh Ah Oh Belli Tipo Mi danno Un cibo Grazie Golbat Infatti Golbat è Il cancro Del pokemon Lasciata Quante volte ragazzi Oh Oh Bauxite A culo Ok Due pezzi Perfetto Uno Sì una pala Perché Una pala Perché l'ho fatta Nel Nel live Visto che dobbiamo scavare Ho detto Quasi quasi Alla faccia Della Della Del non avere nulla Boom Facciamoci La pala in diamante Così a caso Ok Recupriamo sta roba Perfetto Ok 27 livelli e mezzo Buon 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 Oh Altro Ok Altra Bauxite Davvero ragazzi È piena di Bauxite Sta caverna Non so chi è il pazzo Che non l'ha presa Cioè Sicuramente lo so O non l'hanno esplorata tutta Cosa possibile Ma comunque Joe e Tipo Devono esplorare le caverne Sono scemi Che non esplorano le caverne Guardate che belle caverne Che sono qui sotto Piene di roba Piene di esplorare Esperienza Tanta esperienza Quella è la parte più importante Tipo Perché no Perché no Poi il coal Perché non prendete il coal Gente stupida Che non prende il coal Ragazzi Quando dico stupida Intendo Che Perché non prende il coal Cioè ragazzi Costa 20 ogni 10 Cioè È buono È buono Vedete Ragazzi Come È come Cioè Trovare la carre marcia Che costa 20 Dai ragazzi Lo trovate Ogni Ogni volta che camminate Lo trovate un pezzo di coal Poi non è che trovate un pezzettino normale Io che c'ho un piccone figo Boh Ne provo tipo 10 pezzi Per ogni cosa che scavo Fate voi Cioè Cioè Oh Bauxite Ah Ora non troviamo Prima non troviamo Bauxite Adesso ce l'abbiamo tipo a go go Il nostro piccone di diamante è un po' distrutto Vabbè non è un gran problema Perché tanto poi riusciamo a rifarlo un po' in futuro Però adesso facciamo almeno questi 30 livelli Ok Comunque Allora Per finire La prima squadra probabilmente sarà così ragazzi Monferno Torterra Golurk Che devo fare evolvere Mewtwo Luxury E Probabilmente Arriverà Poliwart Perché Priplup non va bene Faccio due Pokémon lotta Faccio Sia un Pokémon lotta Cioè Qualcuno Due Pokémon lotta Perché Pokémon lotta fanno più male Fanno più danni fisici E quindi Meglio avere Sia un buon danno fisico Che Me lo fa Il Pokémon lotta Sia un danno Psyco Che me lo fa Per esempio Mewtwo Quindi tranquillamente Avremo un botto Un botto Un botto Un botto di roba E quindi Più o meno Affronteremo tutti Gli avversari Senza Grandissime difficoltà Tranne Vabbè Qualcuno mi shotterà di brutto Vabbè Quelli dettagli Poi sono comunque Le Il problema Sono I doppi tipi Se trovi qualcuno Che può sconfiggermi I doppi tipi Thunder Probabilmente Sarò Un po' Nella merda Io penso che Forse la più pericolosa Da affrontare Sarà Sarà Lady Fra Perché Lei è più Lei è molto Brava Nei pokemon E Diciamo che Ha fatto anche Delle cose competitive Ok Come Come dicevamo Ok La gente si uccide Ok Omicidi Omicidi Indiretta Morta indiretta Ok Va bene Non vogliamo sapere Come è morta Non vogliamo sapere Neanche il perché Sinceramente Però è morta Ah Vedete Unità Non sono solo A registrare Perché mi dite Ulisse è sempre Colpa di vale Lo so Lo so È sempre colpa di vale Ok Perfetto Tipo Cattiveria pura E comunque Il colo mi dà un sacco Di esperienza Ma anche la redstone Ma Mi sembra che me ne dà 5 per ogni blocco Ok Vabbè Poi Fate caso che La fin fine L'exper è sempre la stessa Il problema è che Per salire ci vuole più tempo La sacrificata Sada Perché Perché Valena è una persona cattiva Ragazzi C'è E adesso Sono anche dove abitano Quindi Bella sa cosa Ci andremo molto presto A curiosare Che dite Tanto è una delle poche case Che non ho ancora visto Poi c'è Un sacco di Vauxite Ancora Prendiamo Quest'ultima Vauxite Siete cattivi Siete persone cattive È vero Siete un po' come vale Siete persone cattive Tante Oh Ferro No è bauxite Vabbè No è ferro No bauxite Bauxite Un po' più chiara Ormai so distinguere ad occhio La bauxite dal ferro Ragazzi Sono un grande Cioè Sono davvero Ormai A furia di scavare la bauxite È la sua memoria Come è fatta Ok ancora poco Quanto coal c'è qua Che cavolo Ok Ancora ancora poco Speriamo che il piccolo Non si rompa facilmente Vabbè Tappi è un buon punto Di rottura Però dettagli Ok Perfetto Recuperiamo tutta questa cosa La cobblestone E la bauxite Bam ragazzi Come dicevo Era bauxite Qua vicino Dovrebbe se ce n'è altre però No non c'è Perfetto Forse qui sotto No è solo un pezzo Random Che stava lì Perfetto Abbiamo recuperato Tutta quella che ci serviva Di bauxite Ne avevamo anche di più Oddio Quanto Ragazzi Se avevate ragione Qui sotto c'è la bauxite Ditemelo prima però Queste persone cattive Avete fatto un giro del modo Mi ti hai fatto fare Quando qua c'era la bauxite a go go Che te la sputtavano in faccia Te la diceva Diceva Vieni a prendere Ok ancora un po' livelli Perfetto Poi torniamo a casa Andiamo a x-play Velocemente Cioè facciamo un piccolo piccone Tanto ci abbiamo abbastanza di amanti E poi vediamo un po' cosa ci esce Siamo fortunati C'è un bel piccone forte Ok Un altro Bam Tre livelli Ok Ferro E torniamo a casa Bauxite Madò Uh che bella Quanta roba Ragazzi qua mi ci fermo Allora vabbè Lo facciamo così N Ok Eh boh vabbè Lasciano stare poi vabbè Tanto sappiamo dove Come ci arriva qua Non è un piccolo problema Ok possiamo tornare a casa Eh dove si esce Come si esce qua Bella domanda Di qua si scende solamente Oh bauxite ancora Eh che cavolo Prendiamola tutta ragazzi Può sempre servire Le bauxite Ottimo E poi se buttate ci metteremo Tipo a distruggere Cioè a fare il plate Tranquillamente Ok qua si sale Ok qua c'è il ferro Eh Penso che dovrò salire a mano Ragazzi perché Non c'è una via di uscita E c'è del marmo anche Ok si ci sono bambini Che urlano Non so perché Non so perché la gente urla Perché vicino a casa Perché a casa mia C'è sempre la urla A prescindere Se non c'è mia madre c'è C'è altra gente che urla Ah ma siamo anche alti Eh non sono più bassi Ok Siamo arrivati Perfetto Siamo proprio Accanto a casa Di Joe Ah merda Monkey vai via Siamo accanto Ah si E' proprio sotto Casa di Luke Ragazzi Wow Ok figo Perfetto Eh Oh che figo Ha fatto Ah coperto Stronzo Ha coperto Ah Capisco 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 Ok un po' di alberi Sono fighi Li prenderei in effetti Oh dell'iron Anche quali sono buoni Sicuramente Agron sarebbe Il migliore da fare Un ottimo pokemon Nel frattempo Torniamo a casa a piedi Tanto ormai Qua vicino Cioè due passi O lì c'è Un gol Un gol Coso Eh che è stato ucciso Ma Da chi Che è stato ucciso Non lo so Ha fatto una brutta fine Però L'ho visto tipo Bam Scoppiare Ok Abbiamo un sacco di roba Dobbiamo un attimo Lasciarla a qualche parte Però non In giro Perché me la fottono E un'idea io ce l'avrei Ragazzi C'ho una grandissima idea Invece Invece di lasciarla a qualche parte Ci facciamo i blocchi Poi li vendiamo i blocchi Che dite Tanto poi Possiamo sempre Li trasformare in futuro Ok Facciamo questo modo Facciamo i blocchi Sono sette i blocchi Però non i stack Abbiamo un sacco di stack Immaginate i soldini Ci faremo domani Ragazzi Ok 28 Ok Ok Sono un idiota io Opla Ancora pochi Ottimo Ancora un po' Ok Oh ragazzi Uno stack Di blocchi Di coal What the fuck Abbiamo proprio coal Mi dicono eh Ok Mi ne salvano ancora Quanti Mi ne salvano Sette Ok Un'altra due Ragazzi Abbiamo uno stack Di coal Uno stack Di blocchi Di coal Uno stack E uno Ok Perfetto Andiamo a incertare il piccone Facciamo un attimo Tre diamanti Ok Deve andare a mangiare Deve andare a mangiare Questo facciamo nel prossimo episodio Non è un gran problema Ok Siamo quasi pronti Andiamo 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 Ok Uno due Perfetto Andiamo a incertare il nostro bel piccone Speriamo che c'è qualcosa di bello Con fortuna Con fortuna Ci serve Con fortuna Fortuna figa Dai 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 Ok Piacone di amante Bam Ok Perfetto Andiamo Andiamo a vedere cosa ci esce Dici che c'è qualcosa di bello Per favore Perché vedi due Ah ci sono le torce Scusate Ok Diamo un po' Unbreaking 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 3 Eficienza 4 Unbreaking 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 3 Uguale Fortuna Ci serve Cavolo Merda Vabbè dai Mello di niente Abbiamo un altro piccone Diamante Più figo Di questo Abbiamo anche Eficenza Quindi Eficenza Eficenza Ah io lascerei Queste robe Però adesso qui dentro Il nostro caro amico Tanto nessuno può prenderla Ok E Dovrebbe essere la persona Vediamo ok Opla E Da un'altra fase di tutto Nella prossima puntata Metteremo a cuocere un po' tutto Sicuramente Ok Uh Ragazzi abbiamo anche fatto Quanta roba abbiamo Amico Tu tieni la roba per me Va bene Bravo Bravo Tu si che capisci Ok Uh Uh Quanta bella roba che abbiamo Donna mia Uh Aspettate è ancora finito eh C'è ma ancora Ehm Ok Quest'altro oro Qua sono le cose che dobbiamo cuocere ragazzi Ricordamocelo domani Perfetto Da noi sono la da 6 è tutto Ci vediamo nel prossimo video Ciao ciao ragazzi I'm on top of the world And now I'm living And the goods gets better Keeps it giving Not even close to the end Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti